Carne arrabbiata, questo è il titolo del romanzo di Carlo Simoncini, edito da Garzanti, presentato ieri all'attento pubblico convenuto in piazza della Rocca a Clusone. Il libro racconta di Lorenzo, un avvocato di successo a Bergamo, l'uomo 40 anni, moglie e due figli, ha ereditato il florido studio del padre, una vita tranquilla e felice, se non fosse per quell'insoddisfazione che lo accompagna. Ha lo scopo essenzialmente di descrivere al lettore l'ambiente della giustizia, un ambiente nel quale si muovono vari personaggi, magistrati, avvocati, cancellieri, eccetera, i rapporti tra queste varie figure, le polemiche che ci sono, i rispettivi corporativismi. Siccome la giustizia è un campo che da tempo è agli onori delle cronache per vari argomenti, in genere per quelle cose polemiche, emergenti, in realtà io avevo un po' lo scopo di raccontare come sono realmente le cose. Carlo Simoncini, di professione avvocato, vive e lavora a Bergamo ed è impegnato da sempre nella vita politica della città. Carne arrabbiata invita i lettori a capire come, anche tra mille difficoltà e disillusioni, sia necessario continuare a cercare verità e giustizia. Il libro può interessare tante persone che oggi leggono dai giornali storie di giustizia e che magari vorrebbero capirne di più. E poi diciamo che ha anche un po' un aspetto così, non dico di legal thriller, ma insomma di una certa suspense perché la storia poi si evolve attraverso passaggi che possono essere intriganti per il lettore.